Guido Caprino e Ciro D'Emilio benvenuti su Spettacolomania Grazie Ben trovati Allora abbiamo visto Per niente al mondo il film di cui tu sei regista ovviamente Ciro e tu sei il protagonista Partiamo da Guido Allora come stavo dicendo poco fa è un film che parla dell'imprevedibilità della vita Il classico non ci posso fare niente come è potuto accadere a me Ecco quindi Bernardo incarna proprio questa cosa strana della vita Che cosa ci puoi dire a proposito come Guido e soprattutto come Bernardo? Ma le cose poi non si fondono perché quando interpreta un personaggio in qualche maniera lo difenderai fino all'ultimo respiro Per niente al mondo lo abbandonerai questo Come Guido penso che in questo caso vedendo bene l'ascesa E la caduta verso questo burrone infinito sia facile da comprendere in qualche maniera questo personaggio E come Guido e come Bernardo non lo augurerei a nessuno Questa causa scatenante cioè questo atto di ingiustizia Sulle conseguenze lascio il pubblico giudicare e fare fare le proprie considerazioni Questo anche l'onestà del cinema Non prendere una posizione piuttosto che un'altra Come interpreter lo difenderò per sempre Non avrei potuto interpretarlo se è con un minimo giudizio Mi sono dovuto innamorare anche della sofferenza di questo personaggio La domanda era esattamente Ma era un po' questo Era un po' questo Era un po' questo che hai detto E anche per esempio il fatto che quando si è vittime di un errore Probabilmente questo lo chiedo a entrambi naturalmente Probabilmente ci si sente quasi giustificati a continuare a sbagliare Ma io credo che a un certo punto dipende dal tuo status Dipende a un certo punto dalla lucidità che tu puoi avere Dalla situazione in cui ti confina quello spazio che hai sempre occupato prima di quell'ingiustizia E che a un certo punto diventi un'ossessione se vogliamo Quello che dico sempre Cioè Bernardo è un uomo che subisce una grande giustizia Ma che a un certo punto invece di combattere realmente contro quell'ingiustizia Finisce per combattere contro se stesso Questa logline è proprio quello che succede a Bernardo E quello che accadrà a Bernardo in questa storia Guido sei d'accordo su questo? Nel senso io mi hanno fatto questo E quindi io per salvarmi l'anima No a un certo punto Bernardo dice mi hanno tolto l'anima Io me la riprendo Quindi puoi fare qualsiasi cosa A quel punto sei giustificato a fare tutto Ma non credo che ci sia lucidità al fare questo Cioè il film parla proprio di un uomo che in totale controllo di se stesso E che man mano si sgretola questo controllo Questa fortezza che si è creato Sociale e personale E diviene un po' vittima Anche se non è una parola forse sbagliata Ma degli eventi Nel senso che è più grande di lui Il tentativo di tornare Finisce come finisce Non sappiamo come finisce Certo Si perde ulteriormente diciamo Si perde definitivamente Definitivamente Ciro tu hai giocato molto con il tempo In questo film no? Ci sono vari livelli A cosa è servita questa cosa? A far capire meglio al pubblico ciò che accadeva Oppure a non so magari a farlo identificare di più? A parte che era una scelta già presa in sceneggiatura Quindi la sceneggiatura già era scritta in tre linee temporali E il tentativo era quello di far abbandonare lo spettatore Ogni atteggiamento Diciamo wireista Quasi pornografico che abbiamo oggi Nel guardare le storie degli altri E cercare di capire Come dire con distacco Quello che accade Perché tanto è una cosa che non riguarda noi E ci preserva questo Il tentativo era quello di portare lo spettatore all'interno di un viaggio Che fosse più un viaggio nell'anima di Bernardo Più di capire dove sta andando Tu ti poni a un certo punto il problema di come sta invece quel personaggio E sei al suo interno E il tentativo era quello appunto di empatizzare Più che compatire il personaggio di Bernardo Fino alle sue scelte più estreme in qualche modo E questo Financo arrivare anche a Dare allo spettatore Anzi a non dare allo spettatore La certezza del giudizio Che è esattamente quello che succede al coro Dei personaggi attorno a Bernardo Tu sei sicuro che quello che stai giudicando Ha fatto o non fatto Quello per il quale viene in questo momento condannato E quindi questo era molto interessante Perché era come dire Linea narrativa e linea drammaturgica In qualche modo si andavano a sovrapporre A sovrapporre Guido in questo film si parla anche di amicizia Perché Bernardo ha degli amici Degli amici molto amici Poi però dopo questi amici molto amici Insomma si fanno un po' i fatti suoi Sì è un tema che è molto interessante E abbastanza centrale nel film Perché parlando di amicizia si parla anche di società L'amicizia è qualcosa che nasce Come nella seconda parte appunto Come da uno stato di bisogno Che spesso si ha in comune con qualcuno che si incontra È quella È forse l'amicizia più pura Che però porta poi ad altre cose Forse meno Un po' più complicate Sì si parla di questo tema È quello che mi sta forse più a cuore Questo aspetto umano Quello che forse mi colpisce di più Anche da spettatore Non lo so Questa è una scelta mia personale Nel senso Seguendo più linee È quella che mi ha Al di là del lavoro che ho fatto appunto Parlando di amicizia con Boris Comunque è nato un legame vero di amicizia Quindi mi dà gioia parlarne È un po' il t'hanno lasciato solo diciamo Quando uno dice mi hanno lasciato solo Quello che succede Sì però penso che l'intenzione del film Sia quella di Di porsi anche dalla parte Di chi ti ha lasciato solo Ok Quindi E questo ti dà modo di Entrare e parlare appunto In maniera molto precisa Di una società E quindi è molto interessante Questo aspetto Non giudicare Non c'è un giudizio Anche sugli altri quasi Quasi vittime a loro volta Di un sistema Di un modo di essere Di individui Che quindi Cozza con la parola amicizia Perché amicizia vuol dire Andare verso l'altro Senza chiedere niente Senza chiedere niente Certo Un'ultima cosa Una curiosità Così chiudiamo in allegria Allora c'è una scena In cui Guido Guido danza Con il suo amico Puntoporis Elia Ma questo Tarzan Boy Di Baltimora Ma da dove l'hai ritirato fuori Allora questo Che ci sta benissimo Scena che io adoro Perché sono stato bene Quando l'ho fatta Me la ricordo ancora È una scena In cui sono molto legato Eravamo In una Cava della diga Della Valcellina Tarzan Boy Perché Nel nostro Come dire Background Bernardo Doveva essere un amante Di musica anni Ottanta Di Italo Disco Anni Ottanta E quindi insieme a Calamini Che a qualche anno Più di me Lui mi aveva proposto Tutta una serie Di musicalità E Tarzan Boy Mi aveva fatto impazzire Con quel coro Ci sta benissimo Complimenti Grazie ancora Grazie Grazie Ciao Spettacolo Mania Ciao Spettacolo Mania Ciao 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 Ciao